Trovato con cocaina, eroina e 17.000 euro in contanti, è così finito in manette un 48enne con precedenti originario della campagna ma residente da anni ad Arezzo con l'accusa di spaccio continuato di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato arrestato nella mattinata di mercoledì dai militari del nucleo investigativo con la collaborazione nella fase esecutiva dei cinofili di Firenze e della sezione radiomobile. Il provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Arezzo su richiesta della procura nasce dalla chiusura di una complessa attività investigativa che la scorsa estate aveva consentito di portare alla luce un prolungato e lucroso business legato allo spaccio al dettaglio di cocaina messo in piedi da altri due italiani, un uomo e una donna, finiti all'epoca in manette, che gestivano un bar in città e riformivano numerosi tossicodipendenti a retini. L'attività attuale dei carabinieri, iniziata lo scorso luglio, ha poi consentito di verificare i contatti anche precedenti con i due e tramite servizi di osservazione e analisi e riscontri documentali sono state certificate cessioni quotidiane di droga, per lo più in orario pomeridiano e serale, che avvenivano quasi sempre in parcheggi pubblici di Arezzo nei pressi dell'abitazione del 48enne che raggiungeva in auto nonostante non avesse la patente. È così scattata la perquisizione della casa e della macchina dell'uomo. Nell'abitazione sono stati recuperati un grammo e mezzo di hashish, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e una pistola giocattolo. Dal portabagaghi dell'auto parcheggiata in strada sono poi saltati fuori, occultati in una borsetta, un bilancino di precisione, 60 grammi di cocaina e oltre 17 mila euro in contanti. L'uomo dovrà rispondere del reato e il dispaccio di sostanze stupefacenti in flagranza e, a differenza di quanto previsto inizialmente, visto l'aggravarsi della sua posizione, è stato arrestato e trasferito nel carcere a Rettino di San Benedetto. Sono infine scattati sigilli per quattro auto di proprietà dell'arrestato, poiché non in regola con le norme del codice della strada, di cui una gravata da confisca da diversi anni è recuperata all'erario.